Musica Musica Aspetta il mio 3, 1, 2, 3 Musica Musica Che carino, una di noi Ivana, una di noi vai no, no, per Ivana me lo faccio il cuore per Ivana me lo faccio il cuore per Ivana una di noi Ivana, una di noi due, uno, vai ciao amore grandi che cari grandi ragazzi grazie ciao ahoj noviceski eh, noviceski yeah, super un saluto a Cristelino prossimo ciao ragazzi ciao 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 c'è un ragazzo ragazzi che parla anche la mia lingua che carini saluta ragazzi ciccio vai 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 oi eccoci qua ciao ragazzi queste le ho pre... queste scarpe queste scarpe sono pericolose me le ho lanciate per tre mesi guarda che belli ma la classe non inizia? no 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 dov'è la prof? io volevo conoscere la prof come a casa? va bene qua nessuno studia ragazzi veramente guarda ragazzi c'è le foto che poi andiamo vai sì in mezzo alla strada dove vuoi? dove vuoi? no che bello vai sì amore vieni qua Ivanina dai in mezzo a lei sì oh aspetta ci c'è aspetta che fe... vieni vieni ragazzi ci siamo siamo in diretta qui ragazzi salutate salutate ciao i pazzanichi vieni qua dai vieni pazzanichi ragazzi siamo in diretta siamo in diretta ragazzi ci siamo dov'è i pazzanichi? i pazzanichi vieni qua vieni vieni adesso stai sono già paresi stiamo in diretta salut salut ragazzi no ragazzi guardate qua qua non ci studia ragazzi fatemi sentire un po' di più dai allora come andiamo? come state? bene? mi fate tutti insieme un batti le mani stocca aspetta al mio tre uno due tre adesso un coro per Ivana una di noi Ivana una di noi vai no no per Ivana me lo fate un coro per Ivana no niente me lo fate un coro per Ivana una di noi Ivana una di noi due due uno vai una di noi una di noi grandi una di noi una di noi grandi ragazzi grazie ciao salutiamo Malgioglio ti salutano Cristianino ciao ragazzi lo su uno sdura ciao 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 ciao